buonasera buonasera a tutti ancora un'altra puntata lontana dagli studi di siena tv però vedete l'erba l'erba è sempre nei nostri cuori il calcio la palla non rotola diciamo ora ma il calcio non finisce mai quindi abbiamo inventato qualcosa per stare tutti insieme vicini una sport siena challenge chef quindi tutti i giocatori allenatori insomma molti si sono prestati a dalle proprie quarantene tra virgolette nei propri domicili a fare dei piatti quindi il calcio si è spostato una volta dai dal campo di calcio ai fornelli quindi andiamo a vedere che si sono esibiti i marchi insomma tanta gente andiamo a vedere le loro opere a presto che poi io l'ho sempre saputo in tutti i momenti difficili e volevo solo dirti che se ci credi in fondo andrà tutto bene questo è l'inizio non è la fine un solo amore senza confine a te il mondo a me il sogno a me la notte a te il giorno a noi tempo non risparmierà mai giornate che sembrano non passare mai e i pensieri che ti fanno diverso il silenzio è per tutti lo stesso universo amo questa vita all'infinito amo l'infinito in questa vita e tu smetti di piangere bambina non è finita finché non è finita se ti dico che andrà tutto bene se ti dico non ti preoccupare che alla fine ne usciremo insieme anche a costo di dover lottare se ti dico guarda là il tramonto dopo tutto passerà un momento è perché lo sento è perché lo sento è perché lo sento se guardi il cielo non sei più solo se questo è vero è ciò che sono senza paura di fronte a dio dirai la verità solo dicendo addio a noi il tempo non ci lascerà mai ciò che è stato dimenticate se non ti chiedi come andrai dove andrai che poi è solamente un'altra estate amo questa vita all'infinito amo l'infinito in questa vita e tu smetti di piangere bambina non è finita finché non è finita se ti dico che andrà tutto bene se ti dico non ti preoccupare che alla fine ne usciremo insieme anche a costo di dover lottare se ti dico guarda là il tramonto dopo tutto passerà un momento è perché lo sento è perché lo sento è perché lo sento se ti dico che andrà tutto bene se ti dico non ti preoccupare che alla fine ne usciremo insieme anche a costo di dover lottare se ti dico guarda là il tramonto dopo tutto passerà un momento è perché lo sento è perché lo sento è perché lo sento è perché lo sento se ti dico che andrà tutto bene se ti dico non ti preoccupare che alla fine ne usciremo insieme anche a costo di dover lottare se ti dico guarda là il tramonto dopo tutto passerà un momento è perché lo sento è perché lo sento che poi io l'ho sempre saputo in tutti i momenti difficili e volevo solo dirti che se ci credi in fondo andrà tutto bene questo è l'inizio non è la fine un solo amore senza confine a te il mondo a me il sogno a me la notte a te il giorno a noi tempo non risparmierà mai giornate che sembrano non passare mai e i pensieri che ti fanno diverso il silenzio è per tutti lo stesso universo amo questa vita all'infinito amo l'infinito in questa vita e tu smetti di piangere bambina non è finita finché non è finita se ti dico che andrà tutto bene se ti dico non ti preoccupare che alla fine ne usciremo insieme anche a costo di dover lottare senti dico guarda là il tramonto dopo tutto passerà un momento è perché lo sento è perché lo sento è perché lo sento se guardi il cielo non sei più solo se questo è vero è ciò che sono senza paura di fronte a dio dirai la verità solo dicendo addio a noi il tempo non ci lascerà mai ciò che è stato dimenticate se non ti chiedi come andrai dove andrai che poi è solamente un'altra estate amo questa vita all'infinito amo l'infinito in questa vita e tu smetti di piangere bambina non è finita finché non è finita se ti dico che andrà tutto bene se ti dico non ti preoccupare che alla fine ne usciremo insieme anche a costo di dover lottare se ti dico guarda là il tramonto dopo tutto passerà un momento è perché lo sento è perché lo sento è perché lo sento e insomma dai tutti i calciatori allenatori senesi addetti ai lavori stanno facendo qualcosa dai per far passare questo periodo brutto con un po di allegria e anche con delle donazioni avete visto ha iniziato il radiocondoli e tutte le altre società pianella castellina inchianti ancaiano fomenta hanno fatto le loro donazioni e poi insomma la super sfida di palleggio arte igienica che sta spopolando insomma ci inventeremo altro perché i campionati purtroppo lo sapete probabilmente sono terminati qui inizieremo la prossima stagione magari le società diventatistiche con qualche difficoltà però non si molla non si molla assolutamente quindi inventiamoci qualcosa stiamo insieme ovviamente sempre mondo di lettanti ci prova come Radio Siena TV come Sport Siena ci proviamo a tenere un po' alto il morale perché il pallone almeno nelle nostre menti continua a rotolare buonasera a tutti